buongiorno buongiorno a tutti a tutti ma in questo ristorante la casa di locef roberto uomo c'è sempre una persona importante vediamo chi è chi è questa persona hai visto che sto parlando di gente importante qua a parma sto parlando adesso cambiiamo tutta la lingua a parma sempre mira la gente importante è un icono de panamà icono icono e dito altamiranda no 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 è come roberto durano in panamà quindi viene il tempo del carnaval e tutto si deve andare dal gran pedro altamiranda con su grande grande cancion carnaval e e carnaval e e già sapere qui una gente famosa io le bendito